Io mi chiamo Azzeni Francesco, arrivo dalla Sardegna, ho avuto tanti problemi, le mie diciamo difficoltà era parlare con la gente, sai lavoro io faccio il muratore, allora devi parlare con i clienti sai sempre con la mano in bocca, sempre... facevo schifo dai, diciamo la verità, poi avevo un po' di paradontite, sai si muovevano i denti e poi tramite Facebook ho sentito questo, un dentista sardo in Moldavia e Romania, allora sai ho detto ma sardo mi ispira fiducia, sono venuto qua, mi hanno dato una mano tantissimo, anzi io ero un codice rosso per il mio problema, non avevo osso nella parte sinistra, nella parte superiore, mi avete cambiata non dico il cento per cento, il duecento per cento, perché adesso parlo con tutti, prima non è che facevo un discorso lungo sai, sempre questi problemi, mano in bocca e tutto, puoi mangiare di tutto, guarda io ti dico la verità, desideravo per esempio le noci no, che non le potevo mangiare prima, me le sbattevo e me le facevo come la farina sai, non c'è paragone, ma la carne e tutto, la pasta avevo difficoltà per anche mangiare la pasta, io consiglierei a tutti di venire qua o in Moldavia o in Romania a venire qua, a chi ha difficoltà come l'ho avuta io, sì, i primi tempi c'è un po' la paura, però qua ti troverai bene perché è una famiglia, ho detto tutto, è una famiglia proprio che non è che ti aiutano, ti fanno sentire a tuo agio, ti dicono dai senza problemi, ti fanno rilassare pure, io mi sono trovato bene poi e lo consiglio a tutti, veramente a tutti, wow, sono bellissimi, a me mi piacciono, se piacciono a me, piacciono a tutti